Ci sarà un fallout epocale tra qualche ora! Un fallout nucleare? Un fallout di uccelli! Ti ricordi cosa ha distrutto il tuo matrimonio con Stefanin nel 2003? Per tua informazione, ero sposato con Bridget nel 2003. Il primo gennaio me ne vado. Lo sai che la fase post-pensione precede qualcosa del genere? Hai lasciato gli studi e anche il lavoro. Papa, è sempre un piacere! Voglio fare qualcosa di importante. Ci serve un po' d'avventura. Farò la grande sfida. Abbiamo un anno per fare quello che non abbiamo mai fatto. Finalmente! Ma non si stancano mai! A chi arriva prima? È arrivato il momento! Sono uomini, tesoro. Se non competono, muoiono. Dell'ultima grande sfida! Questo è il mio anno. Lascerò di sicuro il segno. Non posso perdere quel volo. Ce n'è uno a settimana. Peggio per lui. Eh, già. Biscottino? Sì. La regista di Il diavolo è ste prada e io e Marley. Ciascuno di noi deve battere quel figlio di Pia! Se vi piacciono le commedie. Hai fatto la danza della vittoria? No! Può essere. Sì, l'ho fatto. Troverete pane per i vostri denti. Mi hai offerto da bere per ottenere quello che volevi! Davvero? Lasciamo perdere. Steve Martin, Jack Black, Owen Wilson. C'è un momento in cui realizzi di non aver fatto ciò che volevi. Per te sono pazzo, Eddie. Vuoi una risposta da psicologa o da moglie? Quale costa meno? È incredibile! Basta che non venga una tormenta. Non dovevo dire tormenta, te l'ho tirata. Un anno da leoni! Prossimamente al cinema!